ecco non so se sentite il frasquano del canadeire che ha appena scaricato l'acqua sugli incendi che si sono sviluppati per la pioggia di detriti e di polvere lavica sulla costa del vulcano verso l'abitato di stromboli dal quale sto registrando questo video questa è la nube nera che comunque sia molto diradata da quando c'è stata l'esplosione intorno a mezzogiorno io mi trovavo in acqua proprio di fronte a ginostra quindi dalla parte opposta dell'isola nella zona sud rivolta verso sud dell'isola siamo rientrati subito verso stromboli dove mi trovo in questo momento di qua c'è strombolicchio all'orizzonte e questa è la polvere nera lavica ora ce n'è poca perché hanno già ripulito tutto ma prima tutte le strade erano ricoperte questa polvere che è la stessa poi che si vede sulle spiagge chi è stato su quest'isola la conosce bene ogni tanto si sente ancora qualche piccolo tuono in lontananza ecco sembrano proprio i tuoni di un temporale gli eoliani ci sono abituati per chi ci viene per la prima volta è una sensazione un po strana ecco vedete ancora il canadeire all'orizzonte che si è appena riempito di nuovo il serbatoio d'acqua per andarla a scaricare sugli incendi che sono qui alle mie spalle che ora vi inquadro di nuovo comunque non ci sono per fortuna notizie di danni a cose o persone qui da stromboli è tutto